Se gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse sono reali nelle loro conseguenze. Questa è una frase di un sociologo americano dal nome William Thomas che per primo iniziò a definire nella nostra epoca moderna quello che è il concetto di profezia che si autoavvera. Costantemente noi esseri umani ci creiamo una rappresentazione di quella che è la realtà. Andiamo a costruire nella nostra mente una visione dei fatti che ci sono accaduti e che ci potranno accadere. Sulla base della nostra esperienza andiamo a costruire delle regole, delle trame, delle visioni, delle strutture che poi andiamo ad utilizzare per interpretare la nostra vita e per cercare di comprendere che cosa ci potrà accadere o meno in essa. Spesso queste costruzioni che andiamo a fare, queste rappresentazioni, hanno anche dei connotati emotivi importanti. Viviamo delle emozioni forti, abbiamo paura che possono accadere certe cose, desideriamo profondamente che ne possano accadere altre. Allora ecco che queste nostre credenze, questo nostro sistema di credo, va a creare quella che è la profezia che si autoavvera. Nel mito, nella storia abbiamo sempre assistito a profezie che si autoavverano. In psicologia amiamo molto il complesso di Edipo. Edipo era stato allontanato dal padre perché timoroso che suo figlio l'avrebbe potuto uccidere, perché questa era la profezia. Allora Edipo viene allontanato, viene allevato da nuovi genitori. Edipo, viaggiando, incontra un uomo e lo uccide e sposa sua moglie. Ecco, l'uomo che Edipo uccide senza saperlo era suo padre. Edipo non lo sapeva. Suo padre non sapeva chi fosse Edipo, era convinto fosse morto. Ma la sua azione originaria di allontanarlo, di lasciarlo abbandonato, così che potesse morire, per proteggersi dalla profezia, fece sì che la profezia si avverò. Ecco, nella vita di tutti i giorni noi facciamo questa stessa cosa. E questo avviene a livello micro e a livello macro. A livello macro, per esempio, lo vediamo nella finanza, lo vediamo nella borsa, lo vediamo nei mercati. Allora le persone iniziano a pensare che una certa azienda possa non funzionare bene. Allora ritirano gli investimenti. Ritirando gli investimenti, quell'azienda inizia a perdere quotazioni, inizia a perdere valore. Allora inizia ad andare peggio. Allora questo processo di profezia che si autoavvera costantemente accade nella nostra vita, a livello macro e a livello micro. Quindi anche nella nostra vita quotidiana. Per esempio nelle relazioni ci convinciamo di non andare bene. Allora ci approcciamo all'interno di una relazione, per esempio incontrando gli altri, a testa bassa. Domandandoci se andremo bene, se verremo accettati, se saremo amati. Ma senza quindi darci il tempo, darci la possibilità di osservare gli altri, di cercare di comprendere chi in effetti essi siano. Se siano o meno persone per le quali valga la pena, per esempio, impegnarsi. Ecco, ogni giorno quelle che sono le nostre credenze, quello che è il nostro sistema di credo, va a influenzare profondamente i nostri atteggiamenti nei confronti della vita e poi anche i nostri comportamenti. E questo va a generare degli effetti. Degli effetti riscontrabili, misurabili, degli effetti importanti, che poi vanno di fatto a condizionare la nostra vita. Vedi, questo processo che è consolidato, che conosciamo, che sappiamo essere reale, è qualcosa che noi possiamo vivere inconsapevolmente subendolo. Oppure che possiamo utilizzare per cercare davvero di andare a migliorare, a trasformare la nostra vita. Come possiamo farlo? Semplicemente facendo molta attenzione a ciò in cui crediamo, facendo molta attenzione a quelle che sono le credenze che stanno alla base del nostro agire. Noi possiamo svolgere un'operazione a ritroso, andandoci a domandare, ma perché sto agendo in questo modo? Perché sto pensando in questo modo? Perché sto avendo questo atteggiamento? Per esempio, perché quando mi approccio all'interno di una relazione sto sempre a testa china? E non mi do il tempo, per esempio, di osservare le persone, di cercare di capire, ma come sono queste persone? Come ragionano? Quali sono i loro valori? Quali sono i loro riferimenti? Quali sono i loro modus operandi? Vedi, se riesci a fare questo percorso a ritroso, andando osservandoti, a comprendere qual è il tuo sistema di credo, rispetto ai diversi ambiti della vita, te stesso, gli altri, le relazioni, gli affetti, i soldi, qualsiasi ambito, allora puoi andare a trasformare questa profezia. Vedi, io penso, io credo che noi esseri umani siamo prima di tutto creatori e me lo dimostra la realtà. Prova a guardarti in giro, prova a guardare il device che stai utilizzando per guardare questo video, prova a guardare i tuoi vestiti, prova a guardare tutto ciò che ti circonda. Al di là degli elementi naturali, delle piante, degli esseri umani, degli animali, tutto il resto è stato creato dall'uomo. Noi esseri umani abbiamo un grande potere creativo. Tutto ciò che ti circonda urla che i sogni si realizzano, che ciò in cui noi crediamo è possibile. Tutto ciò che ti circonda lo dimostra. Allora, ecco, fare attenzione a quale sia il nostro credo, a cosa sia ciò in cui crediamo, a quali siano le convinzioni che guidano la nostra vita è fondamentale. Perché se riusciamo a fare questo, se riusciamo ad andare a ritroso e andare così a comprendere qual è il sistema di credo, magari ancora più in profondità comprendendo anche dove l'abbiamo costruito, magari nelle relazioni primarie della nostra vita, nei modelli di riferimento, in una lettura, in una situazione che abbiamo sperimentato. Ecco, se riusciamo a sviluppare questo percorso di autoanalisi, dove andiamo a comprendere effettivamente quali sono le credenze, le profezie che stanno guidando la nostra vita, allora possiamo cambiarle. Allora possiamo andarle a trasformare. Allora possiamo scegliere consapevolmente di credere in qualcosa di diverso. e di dare importanza a questo credo con pensieri, parole e azioni. Ecco, se farai questo, se quindi andrai a domandarti quali sono le profezie che stanno guidando la tua vita, scegliendo poi di trasformarle, di modificarle, allora potrai far avverare ciò che davvero vuoi che avvenga nella tua esistenza. E questo chiaramente non potrà far altro che trasformare davvero la tua vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.